Chiaramente il ricordo di Giuseppe Petit, regista catanzarese scomparso, un tragico incidente, il confinamento di Catanzare è vicino alla famiglia e ovviamente non ci sono parole, poi quando succedono queste tragedie mancano le parole soprattutto per un ragazzo, una persona, 46 anni che è catanzarese speciale soprattutto per i suoi valori umani e soprattutto lavorativi, ha lavorato con i più grandi registi, quindi una perdita sicuramente sconvolgente. Questo fa capire tante cose, fa capire tante cose della vita, fa capire tante cose di come siamo davvero, cosa può succedere tutti in un istante, confinché Catanzare è vicino al dolore dei familiari e si stringe chiaramente a questo lutto che ha colpito tutta la comunità catanzarese e calabrese.